Ciao a tutti, oggi vi propongo un nail art un po' particolare, si chiama Raffia Manicure e per chi non lo sapesse, come potete vedere, si tratta di una sorta di French al contrario infatti la lunetta, anziché essere sulla parte alta dell'unghia, è stata realizzata alla base come potrete vedere dal video, io ho realizzato questa nail art a mano libera quindi ho utilizzato direttamente il pennellino dello smalto nero, in questo caso per realizzare questa forma tondeggiante come se andassi a riseguire la forma dell'unghia però molto più lontana dalle cuticole, però per realizzarla se magari non siete molto pratiche o non vi sentite sicure, potete utilizzare anche le stesse lunette per la French, quelle adesive però al contrario, quindi dovrete prima stendere su tutta l'unghia lo smalto che volete si veda nella parte più grande e poi una volta che questo sarà completamente asciutto andate ad attaccare la lunetta qui in basso al contrario e poi andate a stendere lo smalto che volete nella lunetta quindi in realtà è molto semplice io l'ho realizzata proprio in maniera basilare però per renderla un pochino diversa l'ho realizzata in forma di accent manicure infatti sull'anulare ho invertito i colori e ho aggiunto dei piccoli puntini con il colore di contrasto come sempre spero che vi piaccia e vi lascio al video per prima cosa, come sempre, ho applicato su tutte le unghie una base protettiva poi sono andata a prendere uno smalto rosa e uno smalto nero e più precisamente il numero 106 di Essence Free Hugs e il numero 144 Black is Back per primo ho applicato lo smalto rosa su tutte le unghie tranne che sull'anulare mentre invece su questo ho applicato lo smalto nero finita la prima applicazione sono andata a riprendere gli stessi smalti di prima e mettendo il rosa sul nero e il nero sul rosa sono andata a ricreare la stessa forma dell'unghia però facendola più lontana rispetto al giro cuticole quindi creando una sorta di lunetta alla base dell'unghia poi utilizzando uno stuzzicadenti e lo smalto nero sono andata a creare una piccola decorazione solamente sull'anulare in modo da differenziarlo ancora di più dalle altre unghie e così ho fatto dei puntini solamente alla base della parte rosa infine come al solito ho applicato un top coat su tutte le unghie in modo da proteggere lo smalto e da renderlo più luminoso vi ricordo nuovamente che nel video io vi faccio vedere come si fa a mano libera ma voi se non vi sentite sicure potete benissimo usare le linette guida per la French Manicure io spero comunque di esservi stata in qualche modo utile e che questa nell'arte vi sia piaciuta e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao